Ciao a tutti, vediamo in questo video 7 segreti per mancare a qualsiasi uomo. In questo video voglio spiegarti quali sono 7 segreti per far sentire la tua mancanza a qualsiasi uomo. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare scegliendo diciamo tra gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online. Ma ti ricordo soprattutto di far parte, entrare a far parte della più grande community italiana di seduzione, amore, crescita personale e benessere. Iscrivendoti ai miei quattro canali, ovviamente descrizione completamente gratuita, i miei quattro canali che sono questo, Felicità Benessere, ma poi il canale principale Massimo Taramasco, il canale crescita personale con Massimo Taramasco e il canale Amore Autostima. In questo modo potrai a 360 gradi far parte della più grande community italiana per numero di iscritti, per attività, per quanto riguarda la crescita personale e del benessere, la seduzione e l'amore. Allora, veniamo al tema 7 segreti per mancare a qualsiasi uomo. Allora, intanto, beh, devi tenere presente un concetto fondamentale che se tu vuoi sedurre, vuoi coinvolgere, vuoi far innamorare, devi sicuramente, diciamo, far sentire la mancanza a un uomo, perché gli uomini sono esseri strani, cioè percepiscono, percepiscono di, per così dire, essere innamorati quando sentono la mancanza di una donna, quando sentono che quella donna gli fa sentire la mancanza, insomma. E questo perché accade? Beh, accade per diversi motivi. Il primo motivo per cui accade è perché noi, esseri umani, siamo fatti in questo modo, cioè percepiamo l'amore quando sentiamo la mancanza, cioè la psicologia umana funziona in questo modo. Noi siamo più coinvolti, il desiderio aggancia e il possesso sgancia, siamo più coinvolti su chi desideriamo e non su chi possediamo. Ed è questo è un dato di fatto, è innegabile, è incontrovertibile, cioè dovunque la giri, comunque la giri è la cosa funziona in questo modo. Quindi se vuoi veramente essere, far sì che un uomo si innamori di te, devi necessariamente fargli sentire la tua mancanza. Ora, questo non è così complicato, non è così difficile, però certamente che ci devi mettere del tuo, ci devi mettere delle emozioni, non è possibile, diciamo, farlo se tu non metti emozioni, se tu non metti forza, eccetera. Quali sono sette segreti per fargli sentire la mancanza? Beh, il primo è che non sei così più disponibile per lui, gli fai diminuire la disponibilità e questa è la prima cosa. Fagli diminuire la disponibilità, cosa vuol dire? Beh, ogni tanto gli dirai, guarda, no, non ci sono, un impegno, un invita a cena o altro da fare. Inizia a dire di no, ma devi attendere che lui ti chieda però, questa è la cosa fondamentale, non devi tu proporti. Intanto appunto la cosa fondamentale è non proporsi e poi ogni tanto dire di no quando lui ti cerca. E questo è il modo, uno dei modi principali ovviamente per far sentire la mancanza, la mancanza di dare mancanza di disponibilità. Il secondo segreto è quello di essere misterioso. Essere misterioso funziona moltissimo per far sentire la mancanza di un uomo, perché nel momento in cui tu ti fai percepire come misteriosa, lui inizia ad essere un po' destabilizzato, non capisce esattamente perché. Perché si chiede? Perché? Perché lei vuole essere misteriosa? Perché fa questo? Perché succede questo? Ecco, questo è un'altra cosa molto molto interessante, molto importante, e devi tenere presente questi fatti, queste situazioni. è molto importante che tu possa far percepire a un uomo che non sei completamente schematizzabile. Quindi essere misteriosa vuol dire non essere schematizzabile, non essere la donna giusta per lui. E un'altra cosa, un altro punto molto importante, se tu vuoi far sentire la tua mancanza a un uomo, è crearti attraverso i social, degli highlight, diciamo così, usare i social media per creare degli highlight della tua vita divertente e indipendente. Questo è un punto fondamentale, è un punto fondamentale per quanto riguarda una persona, e poi c'è un altro aspetto che è il quarto, che è un altro segreto fondamentale, che devi smettere di iniziare la comunicazione, devi smettere di inseguire, perché, come dire, non devi ricoprire il ruolo del gatto che insegue, del gatto che rincorre, ma devi ricoprire il ruolo del topo che fugge, se vuoi sedurre. E il topo che fugge è lasciando delle esche però al gatto. E poi, questa è un'altra cosa fondamentale, metti te per primo, al primo posto, metti, considerati veramente al primo posto. Questa è un'altra cosa veramente importante. E un'altra cosa, il sesto segreto, veramente fondamentale, è creare, amplificargli le emozioni, amplificargli i turbamenti, amplificargli i dubbi, amplificargli le incertezze, soprattutto quelli che sono le sue fantasie, soprattutto quelli che sono i suoi feticismi, devi andare a stimolarli lì. Non bisogna mai creare emozioni nuove nelle persone, ma stimolare le emozioni vecchie, emozioni già presenti all'interno delle persone. Questo è importante. E poi, altra cosa fondamentale, devi lasciargli qualcosa da dimenticarsi. Quando vai letto con lui, il giorno dopo sparisci. Quando vai letto con lui, non cercarlo, in modo tale che dentro di lui scatti il pensiero. Ma non è che non avrò fatto una cattiva figura, non è che il mio orgoglio di maschio non è preso così in considerazione. Ecco, queste sono tutte modalità molto, molto importanti che fanno sì che lui inizi a sentire la tua mancanza, inizi a desiderarti, inizi a desiderare di compiacerti, inizi a sentire l'esigenza di inseguirti. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramaschi, iscriviti al canale, ti mando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, potrai scegliere tra gli abbonamenti base l'abbonamento seminario online per partecipare al mio seminario online. Ed entra a far parte della grande comunità, la community numero uno in Italia per quanto riguarda seduzione, amore e crescita personale. Quindi iscriviti al mio canale Massimo Tramasco, al mio canale Questo Felicità Benessere con Massimo Tramasco, al mio canale Crescita Personale con Massimo Tramasco e al mio canale Amore Autostima con Massimo Tramasco. Ciao a tutti!